ho un mal di testa che ci sta mancando la palora allora cosa vuoi dire tu a domanda a piacere a domanda a piacere che vuoi? ah mi c***o a ghiai scusa ero microfono solitamente c***o ridi che vede me alla chitarra e alla voce sentiamo che ci deve dire sta m***a è un po' troppo vuoto no sta m***a vuoto vuoto non lo ripeto sto lì c***o motorino ciak terza lavica 2017 ciao ah Sara poi che capisce la gente aspetta non mi fai ridere perché mi sto per ridere quindi due ore possiamo stare a fare meno delle vendita lo puoi fare esatto a meno parlare un po' più normale ci vediamo giorno 11 12 e 13 a via grande al parco comuniale antonio la villa come si chiama? perchè io non ho una parola mia sono un po' ma... è tanto schifo faceva schifo però doveva essere giusto così a tutti è troppo un ciao bella gente ciao ragazzi cosa vuoi? scusa la villa ah guarda parco come... la villa 13 settembre ciao vi comuniciamo che... no aspetta comunicare... eeeh no ok qui voridades tu Grazie a tutti.